il secondo episodio della top per ruolo dopo la patch, diciamo così e vi porto quelli che sono i centrocampisti, me li avete richiesti in tanti su questa categoria abbiamo veramente tanta scelta quindi premetto, come ho fatto anche con i difensori che si tratta di scelte prettamente personali anche se ovviamente sono date con giudizio di giocatori che per la maggior parte ho provato quelli che non ho provato comunque li ho visti utilizzare o comunque ve li porto perché so che sono tanto tanto tanti impiegati nelle squadre soprattutto competitive quindi diciamo che su tutti ho bene o male avuto un feedback di un certo tipo non scandalizzatevi se non vedete alcuni giocatori cercate di seguire quelli che sono i ragionamenti al discorso che vi vado a fare è peace and love quindi senza perderci troppo in chiacchiere direi di passare subito sulla schermata game dove ci attende il primo big boy che è Renato Sanchez Super Saiyan 3 con queste treccine dorate molto esotiche Renato Sanchez che ha ricevuto l'upgrade a questa carta 84 ossia quella d'Europa League che si aggiorna se questo Renato dovesse passare poi ulteriormente il turno parliamo di un giocatore sotto ogni punto di vista incredibile per quello che mi riguarda un metro e settantasei alto alto quattro di mosse abilità e quattro di piede debole quindi già ad un primo sguardo parliamo di un giocatore che insomma ha tutti quelli che sono gli attributi per poter sfondare per quanto riguarda velocità abbiamo un 85 in accelerazione un 85 in velocità scatto che io vi assicuro sentite assolutamente tutto andiamo poi ad avere anche un 95 potenza tiro un po' inficiato al 74 di finalizzazione però un buon 87 di tiro alla distanza vi posso assicurare che questo Renatino il suo ne sa quando arriva in fase di appunto finalizzazione riesce spesso e volentieri a trovare la via della rete soprattutto dopo l'upgrade sia di destro che di sinistro è un classico giocatore di centrocampo box to box quindi in grado sia di recuperare palloni che di offendere gran passaggi per lui 86 di corte e 83 di lungo ottimi parametri di agilità equilibrio e reattività ottima la forza 83 ottimo il 90 di aggressività che vuol dire che praticamente questo Renato quando voi vi andate ad attaccare all'avversario non si schioda e poi sono tanta roba anche le statistiche difensive che qualora sto Renatino potesse prendere un ulteriore upgrade diventerebbero veramente devastanti quindi entrerebbe in quella che viene definita cool hit gang ossia quelle carte che hanno tutti i parametri sopra l'80 e diventerebbe praticamente il giocatore definitivo io lo utilizzo nel mio centrocampo isolare lo trovo veramente fantastico lo utilizzo con ombra che è lo stile di intesa che consiglio lo utilizzo da cc nel 4-4-2 in linea l'ho utilizzato anche da cc nel 4-4-2 appunto di questo tipo l'ho utilizzato nel 4-2-3-1 sempre come mediano ve lo consiglio anche da cc in un eventuale rombo anche se in quel caso magari ci sono delle alternative leggermente migliori però assolutamente il voto che il buon Renato si porta a casa è sicuramente altissimo diciamo così un bel 9 pieno per per il portoghese ah poi ovviamente specifico in questa mia top non ci sono gullit viera eccetera quelli fanno un campionato a parte quindi vi porto carte che nel bene o nel male possiamo comunque permetterci tutti discorso analogo ovviamente vale per l'IF che magari è un po' più economico ma vi assicuro che è tanta tanta roba perché questo si è upgradato da poco e prima la versione Europa League era come utilizzare l'IF quindi big up per il buon Renato in tutte le sue versioni ovviamente io qui vi faccio vedere la versione più forte ma il mio ragionamento è che se una carta speciale è forte lo è forte se quella base era comunque valida quindi qui comunque parliamo di un IF e insomma GG per Renatino andiamo avanti e troviamo il buon Pogba nella versione Rule Breaker una carta che secondo me è un po' ignorata dai più ma ha trovato grosso utilizzo in competitivo durante l'ultimo torneo è un bel giocatore 1,91m alto normale 5 di mosse abilità e 4 di piede debole che non sono assolutamente da ignorare allo stato attuale del gameplay pecca ovviamente un po' in accelerazione che infatti va un po' a rovinare questo parametro di velocità e questo vuol dire che praticamente magari sullo scatto sul primo passo qualcosina la perde per poi recuperarla comunque visto che comunque parliamo di un giocatore di 1,91m e con la falcata certamente si mangia le porzioni di campo potenza tiro 91,76m di finalizzazione sono comunque parametri ovviamente accettabilissimi per un centrocampista 77m di corto come passaggio un po' mi puzza vi devo dire la verità però l'81m di lungo è comunque decente buoni i parametri anche di agilità ho un po' meno l'equilibrio ovviamente parliamo di un giocatore di 1,91m ottimo il controllo palla ottima la forza peccato per l'aggressività e qui sono ottime le statistiche difensive e vi ripeto un giocatore sul quale secondo me insomma si sta un attimino giudicando con troppa fretta perché secondo me in un meta e in un gioco dove comunque i mediani vanno un po' tutti a spasso quindi per poterli utilizzare bisogna selezionarli e saperci difendere questo qua fa il suo perché fa ottimi filtranti ti dà qualità in mezzo al campo è molto molto ingombrante è massiccio quindi recupera anche tanti palloni è francese della Premier quindi straibridabile strautilizzato per me questo qua si porta a casa un altro voto molto molto alto e vi devo dire che ho intenzione di provarlo e su questo magari vi aggiornerò visto che ho utilizzato il base e per me è tanta roba stile d'intesa anche per lui consigliato ombra ruoli consigliati il cc in un 4-4-2 tranquillamente mediano nello stesso ruolo o mediano in un 4-2-3-1 ovviamente in un rombo da cc ci può stare ma la scarsa finalizzazione che comunque è alta per un centrocampista unito al fatto che ha poca aggressività e ha alto normale non vorrei che possa lasciare effettivamente un po' troppo buchi se chiamato ad offendere quindi lo preferirei da cc difensivo o da cdc andando avanti abbiamo il buon Brunello Fernandez che quest'anno ha preso più versioni speciali di non so cosa questa è la sua versione pot ma dall'89 in poi per me sono tanta tanta roba tutte perché l'88 si distacca molto poco dal base quindi per me non ne vale la pena parliamo di un giocatore con alto alto 4-4 di 1,79 buoni parametri accelerazione e velocità ottimi in questo caso sia potenza tiro che finalizzazione devastanti passaggi devastante agilità equilibrio e reattività qua ovviamente le statistiche difensive peccano così come forse aggressività che sono un attimino rivedibili questo Bruno praticamente non è altro che una sorta di Renato Sanchez ve lo dico molto alla buona con un body type un po' più mingerlino chiaramente più tecnico ma meno difensivo quindi diciamo che è un giocatore che a me piace tanto però non l'ho alla fine preferito perché sentivo quel deficit in fase di di non possesso rispetto magari a un Renato però è tanta tanta roba non andrei a buttare troppi crediti sulla carta potume perché ovviamente non è che la portate chissà fino a quando perché mo' tra toti cose varie poi uscirà il tozzi insomma vi rimane tra i denti una carta che costa veramente tanto quindi piuttosto andate sul 90 o ancora sull'89 che è tanta roba e vi portate a casa un bel giocatore stile di intesa anche in questo caso consigliato ombra per cercare di apparare un po' la situazione in difesa ruolo consigliato sia il cc che il cdc in un 4-4-2 o in un 4-2-3-1 però lo preferisco più da cc questo ovviamente può fare anche il cc in un eventuale rombo il cc sempre nello stesso modulo e insomma anche per lui voti altissimi stiamo parlando veramente di un top player andando avanti abbiamo invece il sempreverde in goal of fucking kante kante 1,78 m di cattiveria normale alto 2 di mosse abilità e 3 di piede debole qui non stiamo parlando di un velocista anche se nella realtà copre più spazio kante che l'acqua sulla terra però comunque è tanta roba perché non è che lo percepite perché in game piotta come un maledetto qui ovviamente non abbiamo buone statistiche di tiro però ne abbiamo ottime di passaggio ottime di aggirità equilibrio reattività ottime statistiche difensiva e devastante l'aggressività questo praticamente si attacca come una calamita al frigorifero e non vi lascia mai più ovviamente per lui ruolo consigliato il cdc anche il cc in un 4-4-2 perché ovviamente anche quello in linea praticamente il cc è una sorta di mediano e poi in questo caso qui seppur magari non ha questa grande finalizzazione i passaggi li fa bene ed è molto agile quindi a girarsi e a rigirarsi su se stesso per mandare a voto gli avversari e mandare in porta i propri compagni questo qua il suo lo fa egregiamente ovviamente anche il base ovvero quello non nella versione if perché ho detto che io qua vi sto portando le versioni migliori che ci sono di quella carta però anche il base fa assolutamente il suo altro giocatore veramente interessante è questo Marco Siorente 1m84 alto alto 3-3 buone le statistiche di accelerazione ottima quella di velocità anche qua abbiamo dei tiri discreti niente di eccezionale ottimi passaggi sia il corto che il lungo qui l'agilità magari inizia un attimino a essere un parametro diciamo limite ma comunque ci sta attenzione all'equilibrio 71 buone le statistiche difensive e tanta roba anche forse aggressività per quello che un giocatore secondo me anche in questo caso molto molto sottovalutato a perché vi linka con Gimenez b perché molti preferiscono il rule breaker senza un apparente motivo perché questo qua per me è 100x assolutamente l'hanno utilizzato anche nelle qualifiche sposta chiunque aggressivo solido buono con i piedi in fase di impostazione quindi tanta roba il buon Marco Siorente ruolo consigliato anche per lui o il cc o il cdc in un 4-4-2 in un 4-2-3-1 con ombra e io per esempio lo preferisco anche al suo compagno di merende Federico Valverde alto alto 1-82-3-3 del Real questo qua rispetto al buon Valverde è solo 2 cm in meno ma ha un body type molto più tarchiato poi di questa cosa dei body type ve ne parlo in un video ha un body type molto più tarchiato attenzione spoiler e quindi voi lo vedete che è una sorta di barilotto che lo appesantisce un po' sta cosa anche qui comunque parliamo di una carta molto molto veloce sia accelerazione che velocità scatto un po' meglio la potenza tiro ma meno la finalizzazione ottimi anche in questo caso i passaggi più o meno su agilità e equilibrio abbiamo lo stesso attributo ottimi le stessiche difensive è un po' meglio anzi no un po' peggio forse aggressività sarà anche questo che magari me lo fa me lo fa diciamo non preferire a Valverde a Llorente oltre il fatto che vi ripeto mi dà la percezione di essere molto più basso di Llorente che invece sembra molto più ingombrante di quello che in realtà non è e per questo motivo ho deciso di andare a puntare tra i due sul giocatore dell'Atletico tra l'altro anche lui Uruguayano quindi Garra Charrua a dismisura però insomma tra i due preferisco il giocatore Spagnolo andando avanti abbiamo il buon Musa Sissoko che vi avevo spoilerato questo niente continua a essere il Viera dei poveri o dei ricchi perché comunque questo costa tanto è una carta questa che si aggiorna quindi probabilmente continuerà a ricevere boost uno dietro l'altro 1,77 alto alto 3,3 ottima velocità scatto un po' meno l'accelerazione quindi anche qui come Pogba magari sul primo passo perde poi comunque essendo 1,87 sull'allungo magari ti va a recuperare potenza tiro 94 poca finalizzazione passaggi devastanti agilità ed equilibrio ovviamente parametri al limite per quello che è comunque un tronco del centrocampo devastanti le statistiche di fisico ottimi parametri difensivi per quella che è una carta che vi ripeto è tanta tanta roba questo qui sempre o da cc nel 4,4,2 o da cc nel 4,3,1 assolutamente non da cc in un rombo dove serve molta molta più qualità e incisività in fase offensiva è uno stile consigliato anche per lui il buon ombra andando avanti abbiamo che si e vi dico che si perché c'è che si c'è che si così come c'è un altro giocatore perché devo dire la verità che in serie A questa e l'altra carta che vi mostrerò a breve sono veramente valide certo a quel punto però subentra il discorso che uno va a fare del tipo qui questo è chiaro lo posso impiegare solo se è una serie A però è un delitto non metterlo altrimenti mi dite perché non hai messo che si eh no che si ve lo metto è forte però insomma le squadre che girano bene o male sono tutte le stesse e se avete una serie A è difficile ovviamente non andarle inserire quindi lo sapete meglio di me che sto franco che sia tanta roba anche perché anche questa carta è una carta dinamica quindi può tranquillamente aumentare un metro e 83 alto alto 3-4 per quello che può diventare un bullet gang se passa ulteriormente il turno con la velocità che arriverebbe sopra all'80 e andrebbe a colmare quella che è la sua unica lacuna perché poi ottima potenza tiro passaggi devastanti statistiche di equilibrio attività contro la palla fatte bene anche l'agilità ci può stare ottime le statistiche difensive e tanta roba anche le statistiche di fisico anche in questo caso al solito parliamo di centrocampisti quindi il i ruoli che possono andare a impiegare sono il cc o il cdc però è bene specificare che io questo da da mezzana in un rumbo non ce lo vedo perché servono giocatori che comunque oltre a essere incisivi in fase offensiva e bravi coi piedi siano anche comunque un minimo agile e vi permettano un minimo di poter fare magari una crocchetta per prendere campo eccetera eccetera e questo magari invece è un po' più difensivo rispetto a un giocatore box to box come abbiamo visto prima il buon Renato Sanchez quindi promosso a pieni voti ma con riserva nel senso non pensate di poterlo utilizzare ciccino un rombo cosa che invece potete fare col buon Rajon Angolan nella sua versione Rule Breaker 1m76 alto alto il buon Ninja che riceve anche quest'anno una versione che fa sognare tutti gli amanti della serie A veloce veloce potenza tiro 89 finalizzazione 78 ottimi passaggi buone le statistiche di dribbling qua pecca un po' la difesa ma lo stile che andiamo a piazzare ombra magari andiamo un po' a tamponare qua 77 di forza non è un grosso problema e 90 di aggressività lo rende un giocatore veramente fastidioso in mediana quindi il buon Ninja va a completare insieme a che si quella che secondo me è la mediana migliore in serie A al momento Milinkovic non fa parte di questo gruppo perché per me è troppo piantato troppo tronco quindi tanta roba anche il buon il buon raggia e chiudiamo questo video con il buon Marchignos che insomma ho analizzato nel dettaglio in quella che è appunto la review dell'evento freeze normale alto 1m8333 questo qua effettivamente non costa tanto raga io quindi ce l'ho voluto buttare non tanto perché lo ritengo così forte ma perché comunque parliamo di una carta con dei passaggi incredibili buone statistiche di dribbling buone statistiche di difesa buone statistiche di fisico peccato la forza ma questo qua per quello che costa tenendo nel club non vi costa niente secondo me perché vi da una tripla Neymar che per magari andare a tamponare i discorsi di intesa ci può sempre stare è comunque una carta sfiziosa ho sentito un po' di feedback discordanti per quelli che l'hanno provato c'è chi dice che è un gran giocatore altri che dicono che è una mezza pippa io mi sento di comunque inserirlo all'interno di questa di questa compilation di di giocatori e quindi anche il buon Marcos Aos Correa meglio noto come Marchinius rientra tra tra questi campioncini raga per questo video è tutto spero che abbiate compreso quello che è il discorso che vi sono andato a fare perché vi ripeto ormai siamo in un meta dove i centrocampisti sono degli attaccanti aggiunti non nel senso che devono andare a finalizzare l'azione ma che la devono creare per cui devono avere piedi buoni poter avere la possibilità di tirare quindi di spaventare i difensori avversari per liberare spazio per i vostri attaccanti quindi questi qua sono i miei personalissimi migliori centrocampisti allo stato attuale del gioco fatemi sapere che ne pensate mi raccomando like e commento iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba trovate tutte le info in descrizione per le live giornaliere sulla piattaforma Viola e nada raga a me non resta altro che salutarvi e appunto vi saluto ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti